Musica Nuova puntata di Cronache e Commenti, il Consiglio regionale della Toscana raccontato dalle nostre telecamere. Il dibattito di questo fine aprile si è improntato soprattutto sul nuovo piano strutturale della Toscana, in principal modo si è parlato del futuro dell'aeroporto di Firenze, ma non solo, andiamo a vedere quello che è successo in Regione in questi ultimi giorni. Approvato dal Consiglio regionale il nuovo piano agricolo della Piana Fiorentina, insieme a questo si introduce anche la questione ampiamente aeroporto. Mozione di progetti integrati di filiera, un modo per cercare di valorizzare il Made in Toscana e screening delle malattie cardiovascolari, una giornata dedicata a questo durante il Consiglio regionale. Approvata dal Parlamento Toscano con 19 voti favorevoli e 12 contrari, la delibera di ratifica dell'accordo di pianificazione tra Regione e Comune di Firenze, per l'adeguamento del piano strutturale relativo all'ambito territoriale interessato dal progetto di territorio Parco Agricolo della Piana, alle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale. L'atto prevede che regioni e comuni del territorio della Piana sottoscrivano accordi di pianificazione che prevedano nella strumentazione urbanistica i contenuti del progetto. Centrale su questo è l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che è stato ampiamente dibattuto in Consiglio. È la ratifica di un accordo che mette due punti fermi fondamentali per la Regione e che non pregiudicano affatto il futuro. Da un lato si fissa la dimensione del parco in 80 ettari, chiaramente questo non implica come siano disposti quegli 80 ettari, quindi in astratto non vi è nessuna incompatibilità con le progettualità future consentite al momento dal masterplan. Dall'altro lato, invece, dato fondamentale per la Regione, si prevede lo stralcio dell'ex inceneritore di San Donnino, che non sarà un'area verde ma sarà un luogo per collocare un impianto di recupero, come l'impianto che si propone di recupero dei RAI, dei rifiuti tecnologici, che non ha impatto ambientale e costituisce uno snodo fondamentale della visione del piano dell'economia circolare della Regione. Quindi, a mio avviso, un atto che è, prima cosa, fondamentale perché consente la piena efficacia del piano operativo del Comune di Firenze, che era sospesa in attesa della ratifica, che riafferma i principi fondamentali e la presenza fondamentale del parco nella visione della piana e che mette anche le basi per la conservazione di tutti gli equilibri futuri con le realizzazioni che lì avranno luogo e con la salvaguardia dei principi a cui teniamo tutti moltissimo, anche noi qui in Regione. Quindi, in realtà, appunto, la discussione ha preso una piega che non aveva niente a che fare con questo atto ma che era più legata al dibattito complessivo politico, soprattutto cittadino, sulla visione futura sulla piana e sugli atti e sulle realizzazioni progettuali che avranno sede lì. Per chiudere, c'è da dire che sull'aeroporto, al momento, tutti gli atti sono a livello del governo e comunque, essendo una struttura di interesse nazionale, qualunque decisione non verrebbe pregiudicata dalle decisioni prese a livello locale. Quindi, anche se il piano contenesse una limitazione alla progettualità dell'aeroporto, cosa che non è, sarebbe comunque superabile perché l'interesse nazionale prevale, appunto, sulle determinazioni locali. Mi sembra che se si legge tra le righe, tutti sono favorevoli a questo aeroporto e a che funzioni meglio, perché si dice, si vuole far capire che non ci sia una contrapposizione con l'aeroporto di Pisa e conseguentemente devono essere in sinergia. È anche vero che, parlando in maniera fuori dagli schemi, il Fiorentino, che non trova nel proprio aeroporto lo sviluppo desiderato, forse non va a Pisa ma va a Bologna. Per cui è bene che l'aeroporto di Firenze trovi uno sbocco. Poi è ovvio che nei giochi politici si massimalizza quello che è il danno per la zona della Piana che quindi inevitabilmente verrebbe sacrificata o comunque ci sarebbero tutti i rumori e quant'altro. Però è ovvio che l'aeroporto di Firenze debba avere uno sviluppo importante e questo credo che in cuor suo ogni toscano lo ritenga importante. Anche oggi l'atto che abbiamo votato in Regione Toscana non fa altro che confermare che c'è una volontà di continuare in questo progetto più volte in più forme bocciato della nuova pista di Peretola e lo fa con degli stratagemmi anche amministrativi che non condividiamo assolutamente. C'è un solo principio da rispettare, quello dell'attenzione all'utilizzo della risorsa suolo che deve prevedere la sicurezza per quelle popolazioni che adesso sono sorvolate anche in orari non adeguati dai voli dell'aeroporto di Peretola, la sicurezza idrogeologica che non può prevedere ulteriori volumi costruiti all'interno di quella piana che pochi mesi fa è andata nuovamente sott'acqua nonostante interventi già fatti e soprattutto non deve prevedere assolutamente quella che è la creazione di un nuovo aeroporto perché di questo si tratta fondamentalmente di cercare di mettere un tassello ulteriore per cercare di portare avanti un progetto che come ho detto più volte è stato bocciato. Ci vuole una messa in sicurezza per le popolazioni soprattutto dal punto di vista ambientale e dell'acustica e quant'altro ma non si può continuare a giocare sulla scacchiere di quello che è una partita importantissima per la piana in questo modo cercando in qualche modo di intaccare anche il progetto del parco stesso che fondamentalmente lo ricordiamo è un modo per tutelare anche l'ambiente e tutte le persone e le popolazioni che li risiedono. Noi abbiamo votato contro alla ratifica tardiva del Consiglio regionale rispetto all'accordo di copianificazione col Comune di Firenze è stata una cortesia fatta da Gianni a Nardella per consentire al Comune di Firenze di approvare il piano strutturale e il piano operativo a pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale ma che contiene secondo noi un nodo irrisolto cioè il rapporto fra il parco della Piana che viene di fatto esteso con il parco di Castello con la previsione dell'aeroporto perché già la sottocommissione nazionale di valutazione di impatto ambientale ha espresso tantissimi dubbi e perplessità sullo sviluppo dell'aeroporto proprio in funzione della sua contiguità con il parco e con le varie strutture di rete natura ci sono gli stagni, c'è il lago e conseguentemente c'è una presenza di avi fauna cioè di uccelli molto rilevante più si insiste negli atti di pianificazione a parlare del parco e dello sviluppo del parco più è difficile la coesistenza con lo sviluppo dell'aeroporto e invece naturalmente ha non soltanto impatto sull'attività umane e quindi anche sullo sviluppo che c'è stato delle residenze il nuovo polo universitario e altro ma ha naturalmente un impatto ambientale notevole e il primo pericolo di ogni aeroporto è il bird strike cioè la possibilità di collisione fra gli aerei e gli uccelli e conseguentemente l'abbiamo evidenziato oltre al ritardo con cui è arrivata questa ratifica perché di fatto il comune di Firenze ha già votato il piano strutturale prima ancora che il consiglio regionale ratificasse l'accordo con il comune stesso e quindi ancora una volta il consiglio regionale è stato messo in coda rispetto invece al ruolo che dovrebbe avere sulla pianificazione di un'area così strategica per la regione tanto che il PIT a suo tempo aveva previsto proprio il parco della piana come una delle invarianti strutturali della pianificazione Presentata poi una mozione sul PIF i progetti integrati di filiera nell'ambito infatti della programmazione comunitaria 21-27 in materia di sviluppo rurale si persegue l'obiettivo di favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento stimolando la competitività nel settore agroalimentare toscano Con la mozione che abbiamo approvato oggi in consiglio regionale chiediamo di ridare forza e di riutilizzare lo strumento dei PIF dei progetti integrati di filiera uno strumento importantissimo che serve per mettere tutta la filiera dal produttore agricolo fino alla commercializzazione insieme collegarle in un unico progetto che permette di aumentare la redditività di ognuno dei partecipanti alla catena e altresì di superare la frammentarietà che è uno dei difetti della struttura produttiva agricola anche toscana e soprattutto anche di riuscire a fare investimenti e innovazioni di processo e di prodotto e di garantire anche ai nostri cittadini dei prodotti di qualità che vengono dalla Toscana quindi uno strumento che negli anni passati ha dato degli straordinari risultati e che vogliamo anche nella prossima programmazione sia uno strumento essenziale In contemporanea all'ultima seduta del consiglio regionale si è svolta una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie ad un semplice test del sangue in dolore e immediato è stato possibile testare giornalisti dipendenti della regione e politici sul proprio stato di salute e su eventuali predisposizioni future a questo tipo di malattie La prevenzione è un momento fondamentale per un sistema sanitario che vuole essere al passo con i tempi La regione toscana ha sempre creduto in quello che è l'innovazione e la ricerca tant'è vero che per quanto riguarda le malattie cardiovascolari da sempre si è impegnata a essere molto al passo con i tempi già dall'inserimento del 118 quindi dell'emergenza, il valore del tempo che abbiamo imparato e via via, sempre innovando abbiamo messo su quelle reti cliniche che portano all'emodinamica le reti cliniche che portano alla stroke unit e che quindi diminuiscono e la mortalità e la morbidità per questi malati e creano ovviamente malati meno invalidi per quanto riguarda la loro qualità della vita Oggi, anzi in questo momento vogliamo ancora andare avanti e cercare di prevenire queste malattie cardiovascolari e per questo oggi siamo qui a fare questa prova per l'LDL quella parte cattiva diciamo del colesterolo totale e anche a informare perché spesso i cittadini molte persone non sanno che è importante monitorare il valore del colesterolo ma non tanto del colesterolo totale quanto dell'LDL Il colesterolo e soprattutto il colesterolo LDL che sarebbe il colesterolo tra virgolette cattivo cioè quello associato a un aumento di rischio delle malattie cardiovascolari cioè dell'infarto e dell'ictus Controllarla è importante perché riuscire a contenerne i valori i livelli entro limiti accettabili può significare ridurre in maniera sostanziale il rischio di sviluppare un infarto o un ictus e di conseguenza aumentare la propria aspettativa di vita sana Oltre al colesterolo si misura normalmente anche il valore dei trigliceridi che pure contribuiscono a determinare il rischio di malattie cardiovascolari e che sono anche associati al rischio di altre malattie come ad esempio la pancreatite La misurazione e il controllo di quello che noi definiamo assetto lipidico che comprende la misurazione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi è fondamentale per determinare il rischio cardiovascolare di un soggetto quindi la probabilità che possano verificarsi negli anni futuri degli eventi cardiovascolari parliamo delle patologie che pesano di più da un punto di vista epidemiologico nel mondo occidentale quindi ovviamente una valutazione di grande rilevanza La lipoproteina che viene arrivata, che cos'è per spiegare? La lipoproteina a piccolo si chiama così è un grasso circolante simile al colesterolo che è totalmente legato alla sintesi epatica e determinato geneticamente questo vuol dire che al contrario del colesterolo e dei trigliceridi che in grande parte possono essere modulati dallo stile di vita la lipoproteina a piccolo è invece determinata soltanto dalla genetica quindi ognuno di noi ha i livelli che la natura gli dà e in qualche modo ce li dobbiamo ottenere e sappiamo che questa lipoproteina in livelli molto elevati determina un aumento del rischio di eventi cardiovascolari che è anche addirittura indipendente da quelli del colesterolo e LDL quindi è un marcatore aggiuntivo di rischio cardiovascolare che noi conosciamo da molti anni almeno dal fine degli anni del 1960 che conosciamo la lipoproteina a piccolo soltanto adesso si è un po' risvegliata l'attenzione internazionale perché si stanno identificando delle molecole che sono capaci dal punto di vista terapeutico di ridurne in modo efficace i livelli Cronaca e commenti si conclude qui la prossima settimana ci rivedremo per una nuova puntata per andare a capire meglio quali sono gli altri argomenti che sono stati toccati nell'ultimo consiglio e nell'ultima attività della regione del parlamentino toscano appuntamento come sempre ogni settimana su Teletruria con le parole, i commenti, le voci dal Consiglio regionale Grazie a tutti Grazie a tutti